Sarà una serata dedicata a Fabio Guccioni, che è uno dei fondatori dell'Arena BCC. Noi nei nostri incontri serali, visto che io sono il presidente della Proloco e Michele è il tesoriere, in una riunione della Proloco Michele mi chiese se, secondo me, era possibile organizzare una serata, visto anche il periodo che abbiamo passato in cui ci sono delle persone che si trovano in situazioni un pochino disagiate. Mi dice perché non organizziamo e partiamo con un evento, una serata di beneficenza. E quindi io chiaramente ho accettato di buon grado subito, ho chiesto anche a Gino se era possibile sfruttare l'Arena BCC, anche lui subito disponibile, e quindi ci siamo subito attivati per organizzare la serata. L'organizzatore ufficiale chiaramente è Michele, lui che ha avuto la gestione di tutta la serata. E quindi niente, abbiamo deciso di farlo. Poi è successo un evento che purtroppo c'è stata la scomparsa di Fabio, e quindi il fatto di avere questa serata in beneficenza dove lui era impegnato in maniera importante, dove lui sul sociale era uno degli organizzatori principali, abbiamo subito deciso di dedicarlo a lui. Chiaramente tutto l'incasso verrà devoluto, verrà devoluta la mensa di San Paterniano, e quindi ecco, quello che noi abbiamo chiesto alle nostre associazioni associate è di aderire, di aderire in massa, ma noi lo chiediamo a tutti, perché ecco, per ripartire con un evento di beneficenza secondo me è la cosa più giusta da fare in questo momento. Non dobbiamo dimenticarci che anche chi canta, chi suona, i gruppi in questo periodo sono stati fermi, quindi ricominciare da poco, ricominciare insomma con questo evento gratuito per la raccolta fondi, insomma comunque vuol dire metterci un po' di cuore, e effettivamente bisogna premiarle questi gruppi che hanno diritto subito, e si sono resi subito disponibili per organizzare un evento musicale, dove verranno ricordate varie attività, Fabio Guccioni, soprattutto come uomo e come persona che è sempre stata attenta al terzo settore, alle persone più fragili, e quindi poi verranno raccolti i fondi, ma soprattutto, ripeto, dire grazie a questi gruppi, perché veramente hanno aderito, in un momento anche loro molto particolare.